Nuovi muri ai confini europei. L'Austria si appresta a costruire quella che ha definito una barriera tecnica per limitare l'afflusso senza limiti di migranti al confine sloveno. Sull'altra frontiera, quella con la Germania, sono salite le tensioni. Berlino si è scagliata contro il governo austriaco per aver inviato migliaia di profughi senza informarla. Il comportamento dell'Austria negli ultimi giorni non è stato corretto, ha detto alla stampa il ministro dell'interno tedesco. Ci siamo lamentati del fatto che i rifugiati, senza che siamo stati avvertiti, sono arrivati alla frontiera tedesca senza minimi preparativi o misure di precauzione. Nel fine settimana è previsto un incontro di emergenza del governo tedesco per discutere del destino di migliaia di profughi. Un flusso che non conosce pause è quello tra Austria e Baviera. 5.500 le persone transitate nella sola giornata di martedì.